Sarà lo street artist Ioritta realizzare a Crotone un murales di quasi 100 metri quadrati che ritrae il cantautore Rino Gaetano. L'artista partenopeo di fama internazionale sarà a Crotone dal lunedì 2 maggio per iniziare a lavorare all'opera commissionata dall'amministrazione comunale e che verrà realizzata sulla facciata di un palazzo nel quartiere 300 alloggi. L'opera sarà dipinta su una parete di 12 metri di altezza per 8 di larghezza e rappresenterà un primo piano del cantautore scomparso il 12 luglio del 1981 riportando anche la frase «Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me» tratta dalla canzone «Ad esempio a me piace il sud». E' stato lo stesso Ioritt a scegliere di dipingere il volto di Rino Gaetano tra una rosa di personaggi che erano stati presentati dal comune di Crotone. L'iniziativa punta alla riqualificazione urbana partendo dalle zone periferiche. Nel corso della realizzazione dell'opera, che durerà tra i 10 e i 15 giorni, l'artista coinvolgerà anche i bambini del quartiere in varie attività. L'inaugurazione avverrà il 2 giugno in occasione dell'anniversario della morte di Rino Gaetano. Volevamo fortemente ricordare Rino Gaetano con un'opera importante. La faremo con Ioritt, quest'artista internazionale, come sapete segna i volti con dei messaggi tribali. Per cui sono convinto che faremo una grande opera e avrà un risalto veramente nazionale. Questo è il primo passo e è la prima opera in uno dei quartieri delicati di Crotone. Per cui sono convinto che tanta gente andrà a vedere questo murales, così come il murales andrà sulla stampa nazionale, se non internazionale. Perché Rino Gaetano è un artista amatissimo. Questa è un'opera che è destinata, comunque la nostra ambizione è quella di fare, che sia un volano, un primo esperimento che parte in qualche modo col botto, attraverso l'intervento di uno street artist di fama internazionale come Ioritt, nell'ambito di un progetto più ampio che vedrà nei prossimi periodi, o comunque catalizzare l'attenzione dell'amministrazione su questa forma d'arte innovativa, che potrebbe, su un'intuizione del sindaco, insomma che abbiamo voluto perseguire a tutti i costi attraverso una delibera di giunta, che come vedrete verrà pubblicata questa mattina, ed è un atto di indirizzo per la realizzazione di più opere, la prima delle quali viene realizzata appunto da Ioritt. Grazie.